Siamo sempre in mezzo a questi problemi. Io velocemente voglio fare un personale applauso a don Paolo, io l'avevo già sentito circa un mese fa, parlava sempre di esperienze pastorali che credo che riassumano troppo bene il peso dei popolazioni italiani. Su quel tavolo ci sono 5-6 litri di questa parte e c'è tutto il discorso di don Paolo che ha tenuto questo consenso. Allora, cosa posso aggiungere su don Paolo che può essere vero? Io faccio parte del gruppo di Carrizzano da vent'anni e faccio parte anche della protezione di don Paolo che cerca sempre nel modo di essere vero. E' importante di questo. I ragazzi di don Paolo che mi sapevo molto, hanno una cosa come 18 lustri, cioè in vent'anni circa, continuano a trovarsi tre volte all'inizio. E' l'ultima volta che mi sapevo leggono sempre una pagina degli esperienze pastorali. Perché? Per non criticarlo sicuramente, ma anche perché c'è sempre da apprendere qualche passaggio. E quindi leggendo, perché solitamente conosco in tutto il professore senz'altro, don Paolo Rezuninari per quello che ha finito in lettere a un professore senz'altro e le lettere che ha inviato ai giudici. Ma il suo pensiero è sicuramente condensato tutto in esperienze pastorali. E' un libro che ha scritto per i partiti, ma si legge quindi sì. Perché se l'ho letto io, che fino all'età di 55 anni ero in possesso di licenze elementari bocciate di terza. Ho già un'impaigliato, non l'ho arrivata a scuola alle 150 ore per starmi a scuola tre anni in 150 ore. Quindi, io sono un povero indorantero che dal pensiero di Don Lorenzo Milani ha accorto questo. Per la fede occorre la grazia. Io non ne ho moltissimo, per quanto tutto il mio percorso giovanile è stato quello di Chierichetto. Poi ho abbandonato, ho chiesto un po' come fanno qua e tutti. E poi adesso ci sono ritornato grazie a Don Lorenzo Milani. Per la fede occorre la grazia. Ma per me non mi piacerebbe. Degli esempi io li faccio, facendo un po' di volontariato. Al capo ci vediamo. Applausi. 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 E' un povero indorantero che dal pensiero di Don Lorenzo Milani ha accorto questo. Per la fede occorre la grazia. io non ne ho moltissimo per quanto tutti i miei percorsi giovanili è stato quello di Chierichetto poi ho abbandonato, ho chiesto un po' come fanno qua e tutti e poi adesso ci sono ritornato grazie per la mia famiglia per la fede e poi la razza ma per i miei esempi io vi faccio facendo un po' di volontariato il capo ci vedo grazie quando un bambino o un ragazzo che fallisce il suo percorso è un fallimento dell'educatore che è una cosa che ti mette addosso una grossa pressione sinceramente tutto su chi non ha le spalle così diciamo robuste come chi ha cominciato da poco a fare questa professione ma in grado è tante quindi si sente il peso non vede come una sconfitta ma sente proprio il peso può sentire il peso del fallimento quindi d'accordissimo sul fatto di che è un percorso che ci vede recitare una parte insieme tra educando ed educatore sul fatto della sconfitta secondo me bisogna approfondire la questione perché se no si rischia un po' di sentirsi veramente un po' schiacciati dal rischio del fallimento questa è una riflessione che è molto masile rispetto a tutte le cose positive che sono state dette però sì mi sembrava un campanello che mi ha un po' un po' risponato e qui io ti rispondo semplicemente dicendo che per Lorenzo Milani la pratica educativa non è mai una pratica individuale cioè non è mai uno contro molti rapporto 1-A 1-5 1-10 1-20 1-100 noi ragioniamo sempre così 1-A invece è un gioco di squadra dove le capacità degli educatori del team vengono valorizzate proprio perché siamo diversi non solo i ragazzi sono diversi ma anche noi siamo diversi Dio a Dio e quindi da questo punto di vista è importante cambiare la logica borghese di educazione che è sempre l'individuo contro la moltitudine no? l'uno contro la massa abbiamo sempre questa logica noi siamo borghesi dalla testa ai piedi anche quando rifichiamo no? intellettualmente questo appellativo ma la pratica deve essere insieme no? pensare insieme lavorare insieme la visione cooperativa questa è la caratteristica infatti Lorenzo Milano e Barbiano non era solo aveva una maestra che lo affiancava e poi era tanta gente che veniva e lavorava con lui e con i ragazzi della scuola e lo stesso a San Donato e secondo me questo del metodo biologico non è mai appunto io che parlo con voi ma noi siamo già una squadra e poi no? a estendere questa cosa e questo credo che sia un elemento anche di salute mentale perché noi preti siamo una categoria a rischio psichiatrico quotidiano e lo si vede basta leggere i giornali ma non siamo gli unici purtroppo a rischio psichiatrico perché se è una categoria in via l'estinzione si estinguerà anche il rischio con l'estinguersi della categoria questione che tutte le attività di cura portano con sé tutta una serie di stimoli sovraccarichi di sbilanciamenti che alla fine potrebbero diventare anche patologici bene credo che una prevenzione molto importante sia quella di stimarsi e di lavorare insieme ma questo richiede anche un cambiamento radicale delle organizzazioni educative le quali invece sono ancora sull'impianto liberale di un maestro una classe un prete una parola eccetera pensavo la pausa alle